Ciao a tutti, per sedurre una donna deve avere una mentalità da premio. Cosa significa questo? Beh, significa che se vuoi sedurre una donna devi considerarti come un premio per lei, non devi considerarti come uno zerbino. Questo è come atteggiamento mentale, perché ti farà agire diversamente, non tanto perché per una questione di legge d'attrazione, anche se vogliamo, ma soprattutto perché ti farà agire in modo diverso. Se io sono convinto di essere un sedutore e una donna mi guarda e mi sorride, penso che ho già fatto colpo, interagirò con lei in modo sciolto, come dire, seducente e coinvolgente. Se sono convinto di essere uno sfigato, lei mi guarda e mi sorride, penserò che mi sta prendendo per il culo, inizierò ad andare a guardarmi uno specchio, e vedere cosa c'era fuori posto, oppure dire sono in solito cesso, appena una mi guarda e ride, con le donne non riuscirò mai a fare niente. E ovviamente non interagirò neanche con lei, starò a distanza, per cui otterrò esattamente l'effetto opposto. Quindi noi dobbiamo acquisire la mentalità da premio, se vogliamo sedurre le donne, cioè, e pensare, se lei non ci sta, poverina, non sa quello che si è persa. Ma devo metabolizzarmelo dentro questo, perché se me lo metabolizzo dentro, piano piano, ci penso tutti i giorni, quando sono, come dire, questa qui non ci sta, poverina, non sa quello che si è perso, quell'altra non ci sta, poverina, non sa quello che si è perso. Troverò quella che ci sta, perché avrò l'atteggiamento giusto. E nel mondo siamo a 7 miliardi, quindi è inutile stare a focalizzarsi con una stronza che ti faggerà i coglioni. Certo, se vuoi procurare delle emozioni, allora fallo deliberatamente. Dici, guarda, questa qui è stronza, ci interagisco un po', tanto così mi prenderà un po' per il culo, faccio finta di credermi più un po' di emozioni. Fallo giusto per asservire la tua parte emotiva e dargli delle emozioni, ma senza, però, il tuo obiettivo, non devi, come dire, lo fai con uno scopo deliberato, diventa uno strumento, non diventa più un mezzo, e poi che se ne vai di fare in culo con la tua emozione. Ma invece, diciamo così, essendo 7 miliardi, non devi stare a focalizzarti. Se una, diciamo, non ti soddisfa, passa a un'altra. Qual è il problema? Siamo appunto in tanti, per cui c'è ampia possibilità di scelta. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!